Che cos'è il design secondo noi? Il design rappresenta un punto focale all'interno della nostra coscienza e ci permette di creare un oggetto che ci rappresenti al meglio e in maniera probabilmente non convenzionale. Un design d'autore ha anche matrici, artistiche, culturali, ecologiche e futuristiche. Il design attuale nel settore navale sta subendo dal nostro punto di vista una flessione ideologica in quanto è rappresentato dal lusso puro. Si vuole vedere un oggetto sempre più bello, perdendo di vista l'evoluzione tecnica dell'oggetto stesso, che in questo caso è rappresentato da una barca. Si è persa di vista l'armonia con gli spazi, la natura, il tempo e i colori, i quattro elementi che identificano al meglio un ottimo design. La nostra opera di design vede la creazione di un qualcosa di originale e unico nel suo genere, estremamente sofisticato dal punto di vista tecnico. Le imbarcazioni che proponiamo e progettiamo sono interamente realizzate in materiale di titanio grado 2, commercialmente puro, e che rappresenta il miglior rapporto saldabilità, resistenza e deformabilità. Il titanio sviluppa una pellicola naturale nella parte dello scafo che viene immersa nell'acqua, grazie alla quale si protegge e si autopulisce dai microrganismi. Infatti, il processo fotocatalitico, strettamente correlato alla superidrofilicità del titanio, vanno a creare il primo eco-design a tessuto metallico vivo. Questo è un particolare tipo di design che offre armonia estetica negli occhi di chi guarda, le nostre imbarcazioni completamente spellate, da rivestimento, colore e messe in acqua così, nude e crude. Abbiamo progettato negli occhi di chi guarda l'imbarcazione del futuro. Il titanio, dal canto suo, può essere lucidato, satinato, texturizzato e lavorato come ogni metallo. Ed ecco che le nostre imbarcazioni assumono un ulteriore canone di design, che è dato dalla personalizzazione estrema dell'oggetto. Questo materiale rende più pulite linee e curvature estetiche, in quanto non ha spessori, colori aggiunti sullo scafo e le sovrastrutture. Abbiamo osservato il canone di bellezza che ha un suo karma estetico, dato dall'eternità di questo materiale, che proietta e vive le emozioni tra passato, presente e futuro. Il titanio ha un coefficiente di rifrazione solare secondo solo a quello del diamante, riflette perfettamente i raggi gamma del sole e riesce a mantenere un aspetto freddo di fronte ad alte temperature. È un materiale intelligente, è dotato di un'ottima memoria di forma, rispetto ad altri metalli, offre il miglior rapporto, dato da peso tenacia ed eccellente resistenza alla corrosione e immunità alle correnti galvaniche. Tornando indietro al punto da dove siamo partiti, quando ci viene chiesto che cos'è il design? Per fare una sintesi possiamo rispondere a questa domanda in modo molto semplice. È l'insieme di forme e tecnologia sommate all'emozione che l'oggetto creato riesce a scaturire nelle persone. Da parte nostra, per fare tutto questo, serve, oltre alla giusta conoscenza e cultura, una buona dose di passione, che ci spinge sempre a guardare avanti e fare un passo verso il futuro. Grazie a tutti.